Sindaco, il messaggio è forte e chiaro, lei non è disposto ad aumentare la Tari, perché? Ne io e neanche tutti i comuni che hanno subito questa convenzione con la mercegaglia effettuata all'epoca dal governatore Vendola e con il silenzio tacito di tutti gli attori del centro-sinistra che sostenevano quel governo. La raccolta differenziata perché non prende piede a Foggia? Ho chiesto all'AMIU, che è la società che ho ereditato e che il centro-sinistra ha fatto ereditare a questa città di fare un piano secondo la loro funzione, perché sono pagati piuttosto bene, in maniera considerevole, dai cittadini di Foggia e l'AMIU si deve assumere la responsabilità di fare un piano per la raccolta differenziata tant'è che non ho ancora sottoscritto il contratto e vado di proroga in proroga perché l'azione dell'AMIU è ancora in bilico. Se continuare a mantenere questo servizio all'AMIU o prendere atto che non siamo soddisfatti, non da un adeguato servizio e cercare di guardare ad altre strade come anche mettere a bando per far erogare il servizio a una ditta esterna. Quindi esternizzare il servizio, considerato che anche i dipendenti saranno garantiti e probabilmente saranno anche valorizzati perché io ritengo che con il privato si risparmia, noi andremo a risparmiare notevole somme e soprattutto i cittadini saranno più soddisfatti. Quindi oggi dobbiamo guardare oltre alla tutela dei cittadini, ma io ritengo che dobbiamo cambiare passo e guardare soprattutto ai servizi e in che maniera questi servizi possono essere raggiunti, con quale tipologia di servizio e con quale tipo di gestione. Quindi il mio sguardo oggi è che l'AMIU ancora è sotto osservazione e non sono soddisfatto per il servizio che sta realizzando su questa città.